Presunte tangenti e droga al comune di Pescara è ancora gelo e per il momento tutto tace, ma domani il sindaco Carlo Masci ha scelto di parlare di questa situazione delicata in una conferenza stampa assieme alla Giunta in modo da poter puntualmente esaminare le varie questioni. Intanto oggi è una riunione di giunta ordinaria, una vicenda quella dell'inchiesta Tana delle Tigri che ha scosso l'intero palazzo di città e ora da una parte il centro-sinistra chiede le dimissioni del sindaco, un consiglio comunale straordinario e il PT scrive una nuova lettera a Masci con 14 domande ben precise. Ce ne parla il consigliere comunale del PT Marco Presutti. Noi abbiamo scritto al sindaco in primo luogo ricordandogli che a questo punto sono doverose le sue dimissioni, ma accanto alle dimissioni che chiarisca gli aspetti più inquietanti che promanano da questa vicenda che riguardano accanto a quelli che sono i ruoli formali, quali sono stati i ruoli di fatto che hanno svolto i protagonisti di questa vicenda oscura che riguardano quindi le responsabilità precise che vanno al di là di quelle formali della dirigente Trisi e in che modo gli altri vertici dell'ente sono stati coinvolti rispetto a quello che si legge e che leggiamo. E in modo particolare anche che ruolo abbia avuto in questa amministrazione l'impresa delle onibus. Inoltre vogliamo sapere se quanto di questo sistema perverso delle dazioni e delle sostanze superficienti date in cambio di appalti abbia influito sui mille guai del cartiere di Viale Marconi e poi tutta una serie di domande che riguardano appunto il buon andamento della pubblica amministrazione e in che modo il sindaco Carlo Masci ha garantito l'amministrazione e anche come ha garantito l'immagine della città. In mattinata si erano diffuse voci di presunte dimissioni del sindaco Masci ma i suoi smentiscono categoricamente il presidente del Consiglio Comunale Marcello Antonelli sulla richiesta dell'opposizione dell'assise straordinaria. Ovviamente nel rispetto di ciò che prevede il nostro regolamento convocherò la conferenza di Gepi Gruppo per l'inizio della prossima settimana e calendarizzeremo questa seduta del Consiglio Comunale che ovviamente dovrà rispondere ai requisiti previsti dallo statuto e dal regolamento del Consiglio Comunale. Saranno tempi lunghi? No, il regolamento prevede che dalla richiesta entro 20 giorni il Consiglio debba essere convocato quindi è evidente che si terrà entro 20 giorni. Io capisco che c'è questo profondo disagio che avverto in me stesso e anche nei cittadini oltre che in tutti i nostri collaboratori che però questa vicenda su cui al momento ritengo di non dovermi esprimere non potrà fermare la città perché c'è un dovere da parte di tutti di andare avanti mettendo da parte quelle che sono le melemarce ma insomma questo è un aspetto poi che investe più l'attività giudisiaria su cui ritengo davvero assolutamente non opportuno da parte mia esprimere alcuna considerazione.